buongiorno buon giovedì a tutti oggi siamo nel lato a sud ovest dell'isola precisamente sopra la cona una delle spiagge più belle dell'isola stiamo salendo verso la punta di questo piccolo lembo dell'isola d'elba per discendere di nuovo la cona questa è la gte ovvero la gran attraversata elbana che attraversa un po tutto l'isola d'elba non è tutta ciclabile ma quasi e in quota si possono passare sui vari monti nei vari paesi che dominano le varie spiagge spettacolo